Tutto pronto per l'avvio dei saldi invernali, che inizieranno domani e dureranno per due mesi. Ottimista sull'esito delle vendite, Confcommercio Pistoia e Prato, che, rifacendosi ad un'indagine svolta da Federmoda, parla di un dicembre caratterizzato dalla ripresa dei consumi, che annuncia una lieve risalita per la stagione dei saldi, il cui inizio coincide con il ponte della Befana. Secondo la stima fatta da Federazione Mod Italia, la spesa media sarà di 119 euro a persona, contro le 115 dell'inverno del 2021. Quasi 993 mila i nuclei familiari pronti ad acquistare a prezzi scontati, per un giro d'affari regionale di oltre 271 milioni di euro. Tra gli oggetti più richiesti, i capi sportivi e versatili, da poter usare in più occasioni. Decisamente meno ottimista Confesercenti, che trova la data del 5 gennaio sbagliato per iniziare le vendite promozionali, in quanto danneggia soprattutto i negozi al dettaglio, che passano da una mancata vendita ai ribassi. Non potendo però cambiare il giorno, l'associazione lancia un appello a fare acquisti proprio nei negozi di vicinato.